buongiorno benvenuti nel mio canale ragazzi oggi mangiamo la carne un mukbang di carne coca cola comprato a ieri che dire ragazzi oggi facciamo mukbang facciamo video di cibo facciamo un pranzo con voi in compagnia un po' di mani di tasta non ho neanche riposato abbastanza bene adesso c'è arrivano anche delle belle giornate finalmente inizia a far caldo non ho neanche riposato non ho neanche riposato Voi cosa avete fatto di bello? Ma cosa fate di bello? Lo pane Un po' di live Dico su Twitch Perché da un bel po' di tempo che non li sto facendo Ma lì comunque tratto i giochi E' un po' di live Ma le proprie li faccio su Youtube Poi ci sono anche dei giochi E' un po' di live Portano dei bei giochi Solo che io di giochi Non me ne intendo Perché non li so i nomi E' un po' di live Prendere spunto da qualcuno E digitare il nome L'unica alternativa è così E' così che sai Trovare dei giochi E' un po' di live E' un po' di live E' un po' di live il frate mi piacciono tanto soprattutto con i salati con i sali perché ci sono i crackers anche quelli senza sale che non hanno il sale attaccato con i sali ho tagliato male basta sto facendo il mokubang questo è il pezzo di formaggio che avevo comprato all'epoca questi giorni qua mi piacciono mi piacciono questo è il caccia mi piacciono un altro pezzo però stavolta l'olio è un pezzo bene, così è già più che sufficiente, molto meglio già rispetto a come l'ho tagliato prima e voi invece cosa mi raccontate? oggi il tempo è molto migliore già da diversi giorni bene 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 ragazzi il mukbang è finito spero che il video vi è piaciuto commentate e ci vediamo come sempre al prossimo video ciao a tutti e buon pranzo a tutti ciao 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 ciao